C'è una città dove si vive bene, una città a misura d'uomo, che storicamente l'università è molto importante, che ha tanti servizi, che si mangia bene, dunque ci sono tanti fattori possibili per venire a provare a fare un'esperienza di vita per un periodo di tempo a Bologna, sicuramente andrà via più ricco sotto tanti punti di vista. Bologna ti offre tutto quello che ti offre una grande città, ma con la fortuna di avere le dimensioni di essere a misura d'uomo, quindi ripeto, tutto quello che ti offre una città, ma con molto meno traffico, con molta più facilità di raggiungere un luogo piuttosto che un altro. È basket city da sempre, questo è molto bello per noi, viverla come giocatori, ma penso che anche da tifosi è molto bello viverla. Ti posso chiedere cosa ti piace di più di Bologna? No, Bologna è una bellissima città, trovo bene qui, sono stato qui adesso 4 anni e io enjoy, enjoy, sicuramente. Niente, sto cercando di valutare quali sono le offerte migliori per il mio futuro, quale possono essere e adesso sono appena arrivato, quindi mi sto ancora un pochino ambientando, comunque per quanto mi riguarda sono ambientato verso l'economia e il commercio. Sì, sto guardando psicologia e mi ha un po' interessato. Mi sono informata un po' sull'università, tipo settore farmacia, medicina, così, un po' per informazioni, ecco. Sono qua in fila perché, diciamo, penso che sia una buona opportunità per potersi candidare e iniziare a crearsi un profilo, una figura. Oggi abbiamo presentato questa inchiesta, questo questionario precario che vuole appunto inchiestare e soprattutto si rivolge a tutte quelle giovani generazioni che vivono a Bologna, che studiano a Bologna, che lavorano a Bologna e che vivono condizioni di precarietà come noi appunto. Grazie.